in pubblico si fingeva paraplegico e si muoveva in carrozzina negli spazi aperti della sua proprietà l'uomo si dilettava in lavori di giardinaggio spostava e scaricava bancali tutto sulle sue gambe il falso invalido scovato dai carabinieri del comando provinciale un 49enne di sedi con l'ipotesi di erato nei suoi confronti quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche l'uomo percepiva da dieci anni una somma pari a 2600 euro fra pensione di invalidità indennità di accompagnamento e contributo regionale che l'inpsa immediatamente sospeso attraverso un decreto di sequestro del conto corrente della famiglia disposto dall'autorità giudiziaria abbiamo svolto questa indagine congiunta con i carabinieri che hanno svolto un'ottima attività investigativa che sommata all'attività documentale hanno prodotto questo tipo di risultato l'incredibile scoperta dopo una segnalazione ai carabinieri giunta lo scorso autunno i rumors popolari hanno portato la nostra attenzione su questo caso abbastanza gratante nella piccola comunità in cui si è sviluppato l'attività investigativa peraltro è stata un'attenta osservazione dei comportamenti delle abitudini della persona che hanno riscontrato appunto una palese contrasto tra lo stato di invalidità e quello che effettivamente facesse nel 2012 una paraplegia da lesione midollare riscontrata dalla commissione dell'asle capoluogo aveva riconosciuto al 49enne lo status di invalido al 100 per cento e il diritto all'accompagnamento nella documentazione vi era l'obbligo di revisione in caso di miglioramento condizione che di fatto si è verificata ma che l'uomo ha evitato di segnalare anche alla visita straordinaria sollecitata dagli investigatori lo scorso novembre l'uomo si è presentato in carrozzina accompagnato dalla moglie fingendosi impossibilitato a muoversi autonomamente e a mantenere la posizione eretta ma l'esito della visita non gli è stato favorevole se il soggetto avrà requisiti psicofisici per accedere al beneficio ripresenterà una domanda fino a quel momento pensione bloccate e rischio qualora le ipotesi fossero confermate di dover restituire le somme indebitamente percepite in questi anni quantificate in circa 200 mila euro nei guai anche la moglie del 49enne operaia in una fabbrica di sedico denunciata per aver avallato e assecondato il marito tanto da poter usufruire dei congedi straordinari imps e permessi retribuiti per l'assistenza ai disabili garantiti dalla legge 104 grazie grazie